cari ascoltatori vi saluta claudio cassardo il meteo climatologo torinese che da qualche settimana vi fornisce una pillola di meteorologia o clima oggi parliamo dei cicloni extratropicali lo facciamo perché è notizia delle ultime 24 ore che la tempesta dennis è entrata nella storia perché è risultata una delle più intense degli ultimi 150 anni che si sia mai formata nel nord atlantico almeno per quanto riguarda il minimo di pressione raggiunto al suo centro nella giornata di ieri infatti la pressione è praticamente crollata in un solo giorno di una cinquantina di etto pascal e ha raggiunto il valore minimo di 920 etto pascal giusto per fare un raffronto consideriamo che normalmente la pressione media a livello del mare è di 1013 etto pascal sul nostro pianeta quindi 920 rappresenta praticamente una caduta pari a un decimo del valore di pressione a livello del mare è tantissimo a livello assoluto questo minimo non è il valore minimo assoluto che si sia mai registrato sulla terra che appartiene a un ciclone sviluppatosi sul pacifico occidentale dove il minimo raggiunse la pressione di 870 etto pascal nell'ottobre del 1979 anche sull'atlantico ci fu un ciclone che raggiunse una pressione inferiore ai 900 etto pascal fu il sistema bilma dell'ottobre 2005 però qui stiamo parlando di cicloni tropicali i cicloni tropicali sono degli altri oggetti perché hanno una dinamica del tutto diversa infatti nei cicloni tropicali il motore rappresenta la condensazione del vapore acqueo che genera energia che poi è utilizzata da questi sistemi per creare i moti orizzontali cioè il venti e i moti verticali cioè le correnti per esempio discendenti al centro del ciclone che formano l'occhio sono oggetti molto intensi che si sviluppano tra l'equatore e i tropici e poi generalmente non si allontanano troppo e quando superano una certa soglia di latitudine che generalmente non è mai superiore ai 30 35 gradi a nord o a sud cambiano veste e si trasformano in cicloni extratropicali nei cicloni extratropicali il motore è il contrasto tra le masse d'aria la massa d'aria fredda e la massa d'aria calda più questo contrasto è forte più il minimo riesce a svilupparsi profondamente alle alte latitudini spesso avviene il contrasto tra aria molto fredda di origine artica o polare e aria relativamente mite di origine subtropicale questo avviene quando le due masse d'aria sono particolarmente fredde notiamo che in questi casi i minimi si approfondiscono maggiormente questo avviene particolarmente alle alte latitudini ossia dai 50 ai 70 gradi di latitudine nord e sud ma più facilmente nell'emisfero nord questi cicloni si chiamano sempre cicloni come gli altri ma sono extratropicali i cicloni tropicali come abbiamo detto sono un sistema totalmente diverso e tra l'altro prendono anche un nome particolare a seconda della zona in cui si sviluppano per esempio gli americani gli statunitensi li chiamano uragani mentre gli asiatici li chiamano tifoni sono la stessa cosa lo stesso fenomeno e appunto sono cicloni tropicali invece quello di cui stiamo parlando questo tempesta dennis tempesta è la traduzione della parola inglese storm è un ciclone extratropicale perché è nato e si è formato molto lontano dei tropici qui stiamo parlando di una latitudine appena al di sotto dell'islanda un po a sud della groenlandia quindi siamo a oltre 50 gradi di latitudine nord di questo tipo di cicloni praticamente quello che ha dato origine a quanto se ne sa all'approfondimento di pressione maggiore è stato un sistema sviluppatosi il 10 gennaio del 1993 tra l'islanda e la scozia che sviluppò un minimo centrale compreso tra 912 e 915 top pascal un altro sistema sviluppò anche un minimo abbastanza profondo che secondo alcuni raggiunse il valore di 916 top pascal a sud della groenlandia tra il 15 e 16 dicembre del 1986 quando risaliamo indietro nel tempo di più di un quarantennio risulta tuttavia difficile assegnare precisamente il valore di pressione al centro del minimo in quanto molto spesso questi sistemi si sviluppano in modo molto rapido e al di sopra dell'oceano dove non ci sono stazioni meteorologiche e all'epoca non c'erano neanche immagini satellitari che che possano favorire una misura del dato che quindi va diciamo dedotto per esempio dalle mappe meteorologiche quindi anche grazie all'ausilio del della modellistica numerica la tempesta dennis delle ultime 24 ore con i suoi 920 top pascal certificati di valore minimo quindi rientrerebbe in questo terzetto diciamo che potrebbe stare sul podio delle tempeste extratropicali sviluppatesi sul nord atlantico più potenti teniamo conto che anche nel gennaio 2013 pur non raggiungendo minimi così profondi si sviluppò anche una un minimo a fine gennaio che raggiunse dei valori tra 920 e 930 top pascal non è infatti un fenomeno così raro che si sviluppi a quelle latitudini un minimo così profondo in questo periodo dell'anno o meglio nel periodo dell'anno che diciamo è compreso nella stagione fredda tra dicembre e febbraio marzo quando l'aria che staziona al di là del circolo polare artico è molto fredda mentre l'aria più umida e temperata di matrice subtropicale conserva una temperatura alta e quindi il contrasto termico è maggiore questi eventi normalmente sono soggetti a una fase di approfondimento rapidissima con cali di pressione che possono arrivare anche a 30 40 o 50 etto pascal di diminuzione in un giorno e poi fasi di colmamento cioè di risalita della pressione altrettanto rapide nei giorni successivi questo processo di approfondimento molto veloce della depressione è chiamato dai meteorologi bombogenesi o bomba meteorologica un'espressione che è stata coniata nel secolo scorso dai meteorologi americani questo tipo di fenomeni come detto ha una genesi molto rapida e quindi i fronti freddo e caldo che normalmente sono associate a tutti i minimi extratropicali di pressione tendono a rincorrersi velocemente l'un l'altro formando un fronte occluso che grazie alla velocissima rotazione del vento tende poi a torcigliarsi attorno al minimo le precipitazioni associate a questi minimi possono essere particolarmente ingenti ma sicuramente l'elemento più distruttivo che provoca più problemi è il vento e anche la pressione molto bassa che può fare risalire il livello del mare perché ovviamente quando la pressione è minore il livello del mare risale leggermente e quindi questo aggravia per esempio gli effetti delle mareggiate lungo le coste tutti i fenomeni che sono avvenuti puntualmente nella giornata di ieri e stanno continuando anche oggi sulle isole britanniche scandinavia e anche in parte sulle coste del nord europa quest'anno la tempesta dennis comunque non è stata l'unica negli ultimi dieci giorni abbiamo già avuto una serie di minimi compressioni superiori al valore quasi record di dennis ma comunque inferiori a 950 to pascal c'è stata una successione di sistemi e probabilmente non è neanche detto che dennis sia l'ultimo tra l'altro il fronte freddo occluso associato al sistema dennis ha diciamo ha assunto una lunghezza particolarmente particolarmente notevole perché praticamente ha ricoperto in obliquo l'intero bacino settentrionale dell'oceano atlantico risultando quindi particolarmente lungo per quanto riguarda questo tipologia di fenomeni come dicevo non non sono nuovi in questa stagione dell'anno e mi viene da dire che uno di quelli che è stato più famoso è stata la doppia tempesta di natale del 1999 che ha colpito francia e germania in particolare ma anche tutte le zone del nord del nord europa quindi gran bretagna danimarca olanda e così via fino alla polonia ci sono stati in realtà due cicloni due bombogenesi una si è sviluppata nella notte del 24 dicembre 1999 ed è stato poi denominato il ciclone lotta e circa una settimana dopo un altro un altro ciclone denominato martin ha seguito più o meno la stessa traiettoria la cosa singolare dell'epoca fu che questi sistemi non furono previsti dai modelli meteorologici perché praticamente l'unica osservazione che aveva regolarmente notificato il valore molto basso di pressione al centro dell'oceano atlantico dove si andava formando il minimo di pressione all'epoca fu considerato impossibile dai sistemi di assimilazione che preparavano i dati per i modelli e quindi fu scartato per cui i modelli non videro l'approfondimento del minimo e quindi non ne previdero in nessun modo l'evoluzione il sistema si approfondì in modo rapido e poi traslò altrettanto rapidamente sulle coste francesi senza nessun segnale di allertamento previsionale e complice anche la notte di natale creò tutta una serie di danni particolarmente ingenti su francia e germania appunto senza alcun tipo di previsione va da sé che quell'evento stimolò poi i centri meteorologici a rivedere i programmi di assimilazione per fare in modo che in futuro ci fosse un po più di cautela nel rigetto del dato in occasione di dati particolarmente sensibili come quello del ciclone Lothar appunto sette giorni dopo il ciclone Martin fece la stessa traiettoria questa volta fu previsto però comunque ebbe degli effetti abbastanza intensi le traiettorie di questi due cicloni furono un pochino più basse rispetto per esempio alla traiettoria di questo ciclone Dennis che si sta muovendo poco a sud dell'islanda e praticamente va è andato a impattare il regno unito e adesso scorrerà a nord sfiorando la scandinavia invece in quel caso queste tempeste riuscirono a penetrare nell'europa centrale attraversando tutta la dalla francia alla germania alla polonia prima di iniziare a colmarsi il ciclone Martin addirittura seguì una traiettoria leggermente più meridionale il minimo di pressione si colmò subito ma riuscì a produrre un evento di favonio sulle nostre alpi e tra l'altro noi abbiamo avuto anche la scorsa settimana per effetto di uno di questi minimi la tempesta chiamata ciara dal servizio meteorologico inglese e questo diciamo ha prodotto tutta una serie di correnti su tutta l'europa centrale una parte delle quali è arrivata comunque fin sull'arco alpino e ha dato origine anche lì a un evento di fan che ha colpito in modo abbastanza rilevante tutto tutto il nord d'italia si tratta di una caratteristica della meteorologia dei nostri inverni particolarmente per quanto riguarda il nord europa una caratteristica abbastanza comune naturalmente i venti che si originano in queste depressioni sono particolarmente intensi e utilizzando la classificazione che si fa risalire all'ammiraglio beaufort sulle scale della velocità del vento alcune volte venti così intensi possono essere classificati nella ultima classe di questa scala che è chiamata la classe dei venti di uragano naturalmente questo non significa che il fenomeno sia un uragano abbiamo chiarito all'inizio che gli uragani sono cicloni tropicali che quindi si sviluppano tra l'equatore tropici qui stiamo parlando di cicloni extratropicali che però vista la profondità del minimo sono in grado di dare origine a venti di intensità paragonabile ai venti di uragano tanto è vero che sono appunto appartenenti alla stessa classe è proprio per la presenza di venti così intensi che si possono avere dei fenomeni dannosi come quelli che stanno subendo diciamo le le popolazioni del nord europa che sono sulla traiettoria di questo ciclone dennis bene con questo vi saluto e vi do appunto appuntamento alla prossima pillola meteorologica o di clima ciao a tutti